E ragazzi per la serie non sto mai fermo, oggi montiamo un nuovo accessorio sulla mia Tesla Model 3. Questo accessorio è molto interessante perché dona al sedile di Tesla Model 3 la funziona Massage! Michele, sei pronto? Come sempre, tieni! Cugino a tutto fare ragazzi, top del sogno, come sempre. Top del sogno, come sempre. Sogno, come sempre. Come vedete qui è molto molto semplice, abbiamo una centralina, un po' di fascette, il cavetto e un comodo accessorio per andare a smontare il sedile. Comunque, in ogni caso, io ho comprato questi super accessori su Amazon per, diciamo, in caso di bisogno. Le istruzioni sono super complete in inglese, ma adesso passo passo vi spiegherò io come si fa. Allora ragazzi, prima di tutto bisogna andare a svitare questa vite qua sotto, che è una Torx del 20. Bene, ora che abbiamo smontato la vite, basta tirare questa parte qui e verrà via. Vedete, questo qua è un semplice connettore che va a incastro. Ora andiamo a staccare questo connettore qui e inseriamo il cavetto. Allora andiamo a staccare questo. Adesso facciamo passare tutti i cavi qui dentro. Allora andiamo a staccare questo connettore. Ora andiamo a rimuovere questa parte qui e da qui andremo a prendere la power source. Usate l'attrezzo con calma. Da una parte e dall'altra. Ok. Ora andiamo a svitare le due torx. E questa parte viene via a incastro. Ed ecco qui sotto c'è la power source. E vedete qui sotto questo è il cavo da dove andremo a prendere la corrente che è quello che dà alimentazione alle due USB. Ora proviamo a fare il collegamento. Così vediamo se funzionano e poi dopo nascondiamo i cavi e tutto è pronto. Ora prendiamo la centralina. Già si sente qualcosa. Ok sembra che già praticamente tutto funzioni. Adesso lo proviamo. Ok allora per farlo funzionare basta premere due volte velocemente il pulsante giù. Proviamo. Voi non lo sentite ma funziona. Bello. Non notare che l'ho montato sul sedile del passeggero così mia moglie si addormenta anche più velocemente. Sarà contenta? Adesso bisogna solo chiudere, rimontare tutto e via. Allora devo dirvi la verità io all'inizio li snobbavo tantissimo dopo un po' che lo si utilizza ma ci si abitua e devo dirvi che comincia ad essere un buon compagno di viaggio a parte che mia moglie si addormenta immediatamente. Allora io l'ho installato anche sul mio sedile perché prima l'ho installato solo di là poi adesso l'ho installato anche di qua e devo dire che dà sollievo durante il viaggio. Tra l'altro c'è un'impostazione molto figa che fa partire automaticamente il sistema ogni 30 minuti, ogni ora o ogni 2 ore di viaggio. Quindi praticamente voi senza doverlo andare ad attivare voi partite per il vostro viaggio e automaticamente ogni 30 minuti vi farà un massaggio di 5 minuti. Che è una gran figata. Tra l'altro poi è veramente molto molto silenzioso come dicevo poco fa. Non si sente assolutamente niente. Poi quando si è in moto si sente ancora molto molto meno. Però la schiena ne giova. Il prodotto viene venduto per 150 dollari mi sembra. Adesso ci sono i Summer Sale e con il mio codice potete avere il 20% di sconto. Tra l'altro se non lo sapete ci sono degli installatori ufficiali italiani tra cui Gabriele di Extreme Card Tailing Brescia di cui abbiamo fatto molti video insieme. Se andate da Gabriele tra l'altro prenotate una nano quindi un trattamento nano per la Tesla Model 3 riceverete in regalo il montaggio di un kit e il kit stesso. Mi raccomando ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciate un like nel frattempo si è spenta la luce aiuto. E' buon giorno. Mi raccomando ragazzi lasciate un like se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e unitevi anche alla community Telegram siamo in più di 2150 ed è la più grande community italiana EV e tech. Quindi mondo delle auto elettriche, green energy, tecnologia, tecnologia smart e quant'altro più grande d'Italia. Quindi unitevi ragazzi. Grazie per essere stati con me. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.